Il Foggia continua la preparazione atletica in vista della gara di domani contro l'Avellino. Il tecnico Marchionni dovrà fare a meno dello squalificato Fumagalli, tre pali, che lascerà spazio a Giorio, portiere classe 2000, arrivata a gennaio dall'anno 6, vecchia conoscenza dell'Avellino nel campionato di Serie D. Il tecnico dei Satanelli Pugliesi ritrova dell'Agnello dopo la squalifica scontata lo scorso turno contro il Catanzaro, gara persa per due reti a zero. Dovrebbe rientrare anche il centrocampista Rocca, che sta recuperando pian piano la condizione fisica, da valutare le condizioni dell'attaccante d'Andrea, fermatosi venerdì scorso. Marchionni molto probabilmente opterà per il 3-5-2, giocando a specchio con l'Avellino. Tra i pali ci sarà Giorio, difesa che dovrebbe essere composta a Galeota, Fiore, Gavazzi e Germinio. Colombo è di Genno sulle fasce, con Salvi, Vitale e Rocca in mezzo al campo. In avanti spazio al tandem, composta da Dell'Agnello e Curcio. I rossoneri, in trasferta nel 2021, hanno ottenuto 4 punti in 3 partite, vincendo con il Potenza per 1-0 e pareggiando con i Bisceglie 0-0. Il più recente K.O. esterno è rappresentato dal 2-1 contro il Catania il 17 gennaio scorso. Andando a vedere i precedenti, in 8 gare, sinora giocate in Serie C allo Stadio Partenio, l'Avellino ha ottenuto 5 vittorie, un pareggio e due vittorie sono attribuibili a Foggia, con un totale 19 gol segnati da Biancoverde e solo 8 dai Cugliesi. Intanto è stato disegnato anche l'arbitro della gara. Sarà Marco Tascani, dalle sezioni AIA di Ancona, a dirigere la gara Avellino-Foggia. Il direttore di gara sarà aiutato dagli assistenti Tiziana Trasciatti di Foligno e Mirko Carpi-Merchiorle di Orvieto, quarto uomo, il signor Valerio Maranesi di Ciampino.